Ho scelto questo percorso perché penso che noi non abbiamo ricevuto in eredità questo mondo dai nostri genitori, ma lo abbiamo preso in prestito dai nostri figli ed è a loro che presto dovremo restituirlo. E io voglio restituirlo a mio figlio più splendido di come l'ho ricevuto io. Io credo fortemente nel coraggio della competenza e che con impegno e duro lavoro noi abbiamo la possibilità di fare la differenza. Nel percorso Executive MBA di SDA Bocconi, oltre all'esclusiva formazione, abbiamo avuto la possibilità di riscoprire e valorizzare diversità e dialogo, umanità e umiltà dei manager, la natura e l'impegno della responsabilità ed è questo il bagaglio che noi porteremo come valore aggiunto nel mondo.